Los Angeles sta dicendo qualcosa di enorme, che avverrà nei prossimi 35 giorni. Ti stanno dicendo che sarai nei guai e salti questo video e non ascolti il messaggio urgente di Dio adesso. Dio ti dice di stare attento nei prossimi 5 a 7 giorni perché il tuo nemico sta pianificando qualcosa di grosso per farti del male. Ma prima di continuare lasciateci un like così che questo video raggiunga più persone. Stanno facendo tutto il possibile per abbatterti perché vogliono che tu chieda loro aiuto. Ma caro figlio, sei tu il mio amato? Mando i miei angeli davanti a te per distruggere tutti i piani del nemico. Il protettore ti proteggerà dai danni e spaventerà tutti i nemici che vogliono farti del male. Credi a ciò che dice il Salmo 23 a 4, anche se cammino nella valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me, la tua verga e il tuo bastone mi danno forza. Caro Dio dei miracoli, grazie per essere un Dio amorevole e gentile. Grazie per averci offerto il perdono e il dono di una vita nuova in te, grazie per il tuo amore perfetto che non viene mai meno e dal quale nulla ci separa. Dio dice che aprirà le porte che sono rimaste chiuse per molto tempo e all'improvviso ci saranno miracoli nella tua vita. Scrivi Amen per rivendicare il tuo miracolo. Congratulazioni nei prossimi due mesi, Dio ti invierà un cambiamento di vita e scriverà miracoli, riceverò la richiesta entro la fine di questo mese. Dio ti porterà benedizioni infinite, sorrisi più grandi, progresso finanziario e maggiori opportunità. Dio dice che questo fine settimana ti sorprenderà in un modo che non ti saresti mai aspettato e la tua vita sarà piena di miracoli in ogni modo. Scrivi, penso che se sei d'accordo devi avere fiducia che questa nuova settimana ti porterà molta felicità. Momenti meravigliosi, persone meravigliose, benedizioni e risultati oltre l'ordinario. Stai entrando in una stagione di continue vittorie e scoperte. La prima cosa che riceverai domani mattina è un miracolo che ti cambierà la vita. Non passare la giornata senza dire grazie a Dio per questo giorno e per le benedizioni che mi hai dato. Condividi questo video con qualcuno che ne ha bisogno. In tre mesi potresti trovarti in un posto completamente diverso, mentalmente, spiritualmente e finanziariamente. Prima della fine di questo mese entrerai in una stagione di preghiere esaudite. Dio dice che sarai ricco, felice e in salute. Sì, ti ho scelto per essere più ricco, più sano e più felice. Dichiaro con fede che Dio mi ha fatto uscire dalla disperazione. Dio è con me. Dio dice che nelle prossime 24 ore riceverai una grande quantità di denaro da fonti sconosciute e inaspettate. Sì forte e coraggioso. Non temere e non scoraggiarti, perché il Signore tuo Dio è con te e non ti abbandonerà. Dove c'è Dio, c'è speranza e Dio è sempre con noi. Scrivi Amen se ci credi. Ditelo ad alta voce, sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più, ma Cristo vive in me. I prossimi tre giorni saranno pieni di benedizioni, miracoli inaspettati e scoperte straordinarie. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per il tuo miracolo, scrivi che ricevo se sei pronto e ti aiuterà in questa stagione e sistemerà tutto per te. Los Angeles sta dicendo qualcosa di enorme, che avverrà nei prossimi 35 giorni. Ti stanno dicendo che sarai nei guai e salti questo video e non ascolti il messaggio urgente di Dio adesso. Dio ti dice di stare attento nei prossimi 5 a 7 giorni perché il tuo nemico sta pianificando qualcosa di grosso per farti del male. Ma prima di continuare lasciateci un like così che questo video raggiunga più persone. Stanno facendo tutto il possibile per abbatterti perché vogliono che tu chieda loro aiuto. Ma caro figlio, sei tu il mio amato? Mando i miei angeli davanti a te per distruggere tutti i piani del nemico. Il protettore ti proteggerà dai danni e spaventerà tutti i nemici che vogliono farti del male. Credi a ciò che dice il Salmo 23 a 4, anche se cammino nella valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me, la tua verga e il tuo bastone mi danno forza. Caro Dio dei miracoli, grazie per essere un Dio amorevole e gentile. Grazie per averci offerto il perdono e il dono di una vita nuova in te, grazie per il tuo amore perfetto che non viene mai meno e dal quale nulla ci separa. Dio dice che aprirà le porte che sono rimaste chiuse per molto tempo e all'improvviso ci saranno miracoli nella tua vita. Scrivi Amen per rivendicare il tuo miracolo. Congratulazioni nei prossimi due mesi, Dio ti invierà un cambiamento di vita e scriverà miracoli, riceverò la richiesta entro la fine di questo mese. Dio ti porterà benedizioni infinite, sorrisi più grandi, progresso finanziario e maggiori opportunità. Dio dice che questo fine settimana ti sorprenderà in un modo che non ti saresti mai aspettato e la tua vita sarà piena di miracoli in ogni modo. Scrivi, penso che se sei d'accordo devi avere fiducia che questa nuova settimana ti porterà molta felicità. Momenti meravigliosi, persone meravigliose, benedizioni e risultati oltre l'ordinario. Stai entrando in una stagione di continue vittorie e scoperte. La prima cosa che riceverai domani mattina è un miracolo che ti cambierà la vita. Non passare la giornata senza dire grazie a Dio per questo giorno e per le benedizioni che mi hai dato. Condividi questo video con qualcuno che ne ha bisogno. In tre mesi potresti trovarti in un posto completamente diverso, mentalmente, spiritualmente e finanziariamente. Prima della fine di questo mese entrerai in una stagione di preghiere esaudite. Dio dice che sarai ricco, felice e in salute. Sì, ti ho scelto per essere più ricco, più sano e più felice. Dichiaro con fede che Dio mi ha fatto uscire dalla disperazione. Dio è con me. Dio dice che nelle prossime 24 ore riceverai una grande quantità di denaro da fonti sconosciute e inaspettate. Sì forte e coraggioso. Non temere e non scoraggiarti, perché il Signore tuo Dio è con te e non ti abbandonerà. Dove c'è Dio, c'è speranza e Dio è sempre con noi. Scrivi Amen se ci credi. Ditelo ad alta voce, sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più, ma Cristo vive in me. I prossimi tre giorni saranno pieni di benedizioni, miracoli inaspettati e scoperte straordinarie. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per il tuo miracolo, scrivi che ricevo se sei pronto e ti aiuterà in questa stagione e sistemerà tutto per te. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Dio dice che farà l'impossibile, si preparerà per la tua benedizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.